Rigoli è una frazione del comune di San Giuliano Terme che si sviluppa lungo la strada che porta a Ripa Fratta. La nuova zona residenziale si trova nei pressi della stazione ferroviaria mentre le abitazioni rurali sono raccolte attorno alla bella pieve di San Marco. Situata in una posizione panoramica su una collina al ridosso della strada scorgiamo l'elegante Villa Alta.